E' veramente molto assorbente sta teglia. Allora, il tono non è giusto, però non mi va male perché, questo tono di questo blu dico, non mi va male perché comunque non lo vorrei tenere troppo saturo, nella foto è troppo saturo, secondo me. Che bella scusa che si è inventata, eh? Ho sbagliato il tono. Non usare una tela a metraggio? La preparazione è industriale, non l'ho, l'avevo solo comprata e ce n'ho lì tipo 8 metri, 8 metri per un metro e venti. Per cui ho detto, visto che devo rovinarne tanta di tela, perché non usare quella? Dipingono 50-60 anni, ma con scarsi risultati, come potete vedere. Adesso invece qui, un colore più violento. Sì, con la tecnica della prima sono una sega, questa è la verità. Rispetto alle mie aspettative, alcuni pittori danno il bianco d'uovo sopra la preparazione e lo lasciano asciugare? Che si può, cioè, non è così, diciamo dal punto di vista tecnico non è così sballato. Sì, anche, è vero, allora era vero, allora era vero. Ancora di più sulle preparazioni all'antica, cioè al gesso di Bologna. Io, col tipo di pittura che faccio di solito, che è una pittura molto secca, non uso questo tipo di preparazioni. Sì, cioè se con la tecnica, su quella che è molto assorbente come tipo di... Alcuni impastano anche, mettono nell'imprimitura, cioè nell'impasto di gesso e colla di coniglio, mettono dell'olio, dell'olio di lino. Qualcun altro... Qualcun altro, mi dicevano, dava questo... Colla e vinavil. Il vinavil io lo evito. Alla preferisco il tuo rapore acrilico. perché il vinavil è... Il vinavil poi è sensibile all'acqua. Ma stiamo parlando di... di filosofia, secondo me. Beh, la preparazione classica è la base d'adoratura, no? Sì, anch'io facevo così, partivo da tutto, mi preparavo tutto quanto, eccetera. Però poi a un certo punto mi sono stufato. Per oggi ok, domani continuiamo. quindi... Chiamo! Grazie a tutti